se volete da me lo conosci ma secondo te la più veloce in l'acqua o la luce? la cacca e domande la domanda o la luce? la cacca ieri sera mi scappò la cacca e c'erano i lampi e a causa dei lampi ero in pubblicato e sono andata in barrio ma non riuscivo a accedere la luce perciò mi sono creata ma questo è un po' di scemo, vavero? bravissimi! non riuscire, non riuscire venite tutti qua ci mettiamo qua davanti tu perché sei lì allungiato? vabbè, lui è il figo del tutto venite di qua, venite di qua, due di qua, due di qua, due di qua, due di qua, dai no no ne manca una, si ha messo la Lisa eh, sono a vedere rispondata facciamoli un ultimo applauso intanto che ti diamo i diplomeni vai, foto, guardatemi la grazie ragazzi prego adesso andiamo avanti con un'altra ballena di pop chiamiamo sul palco Camilla vieni, vieni, vieni ah no aspetta tu devi entrare dopo vabbè lei Camilla si andrà a ballare triple shop inutile grazie 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 a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Facciamo così C'è un appartamento potenziato per chiamare Elisa Elisa Vai Perfetto, grazie Gami Attenzione, cantante Cantanti tra l'altro Di una certa Grazie a tutti